Allora, Antonello Servo e poi Heinz. Antonello farà un intervento che in realtà si collega molto bene con i due precedenti, perché è uscito dalla Commissione, dall'Ufficio degli Affari Costituzionali della Comunità Europea, una riforma di cambiamento della legge elettorale europea e quindi c'è uno spazio per una militanza un po' diversa. Queste liste transnazionali, l'indicazione di un presidente collegato alla lista transnazionale, quindi una proposta che ha un impatto politico suggestivo, presenta anche delle insidie. I tecnicismi sono noiosi, ma creano allarme e segnalano la necessità di muoversi in tempo utile prima che le cose, come al solito, ci passino sopra la testa. Antonello. Sì, grazie, grazie per questi cinque minuti, vi rubrò soltanto cinque minuti. Sarà un intervento un po' più tecnico, vorrei fare anche una brevissima sintetica riflessione più politica alla fine. Ma diciamo così, in tempo di tecnocrazia e la tecnica, altro non è che la politica, proseguita con altri mezzi, tutto sommato. E quindi volevo evidenziare un punto che potrebbe essere utile, su cui potrebbe essere utile riflettere in vista anche del prossimo passaggio politico che ci sarà con le elezioni del 2023, visto che è proprio di questi giorni, di queste settimane, una proposta al Parlamento Europeo finalizzata a creare che cosa? All'indomani della uscita del Regno Unito dall'Unione, la necessità di ridistribuire i seggi del Regno Unito ha portato anche a concepire una diversa circoscrizione politico-elettorale che non va più a coincidere con quella dei singoli Stati membri ma diventa una circoscrizione trasnazionale europea in cui verrebbero ad essere eletti ventotto eurodeputati all'interno appunto del tutto il territorio europeo. E questa proposta che però non vede, se ben capisco, l'appoggio, diciamo così, del gruppo della sinistra europea ma è stata votata, seppur a larga maggioranza, dagli altri gruppi politici parlamentari presenti oggi nel Parlamento Europeo apre la possibilità sostanzialmente a candidature anche dal basso comunque in una logica transnazionale e sebbene non sia chiaro, diciamo, la proposta in termini di fattività quali potrebbero essere i soggetti che si attivano per creare questi processi di candidatura sembra però chiaro che all'interno di questa circoscrizione europea un ruolo da protagonista, un ruolo principale dovrebbero avere innanzitutto i partiti politici o per meglio dire i gruppi politici che oggi siedono nel Parlamento Europeo questo è un dato, diciamo così, più tecnico rispetto alla discussione che si è fatta fino ad ora queste le candidature dovrebbero essere rispettose della varietà di genere dovrebbero prevedere anche una composizione transnazionale a tutela degli stati membri diciamo più piccoli all'interno dell'Unione Europea ma come dire, dal mio punto di vista produce, almeno con riferimento anche alla posizione politica italiana un elemento anche di chiarezza rispetto a quelle che possono essere le dinamiche politiche che si vanno a delineare da qui all'anno prossimo quando ci saranno le elezioni politiche a livello europeo perché in qualche modo costringe quanti sono dentro al GUE ma diciamo così almeno in Italia che orbitano intorno al GUE e che diciamo così svolgono una funzione di osservatori speciali, di invitati e così via le formule sono varie anche necessariamente a prendere posizione nella misura in cui sarà anche un po' più difficile presentarsi a livello nazionale da una parte e poi magari chiedere di poter aderire al livello di circoscrizione europea all'interno appunto del gruppo europeo stesso anche perché la proposta stabilisce che il cittadino europeo che va a votare ha due voti esprime il voto di preferenza su liste chiuse secondo il sistema elettorale che oggi vige in Italia a livello nazionale ma contemporaneamente esprime anche un'opzione a livello europeo a questo che apparentemente come dire è il senso comune, il luogo comune, il fatto che manchi un'opinione pubblica europea non sarò qui a dirlo evidentemente è chiaro che questa è un'operazione che ha come obiettivo quello di allargare l'orizzonte e di provare effettivamente a dar vita ad un'opinione pubblica europea uno spazio di discussione specificamente politico sulle questioni politiche che riguardano l'Europa a partire dalla prossima legislatura tuttavia questa operazione diciamo così di apertura anche alla società civile c'è anche una certa retorica di democrazia dal basso perché diciamo così l'obiettivo è ancora prima che creare una sfera pubblica europea in cui possano agire i gruppi parlamentari europei all'interno di questo collegio transnazionale e anche quella un po' un caveat un po' pericolosa anche bisognerebbe capire di far sì che dal basso si creino nuovi partiti politici a livello europeo è certo che in meno di un anno, in circa un anno, creare partiti politici transnazionali a livello europeo, beh certamente questo comporta, implica, presuppone un ingente quantitativo di danari per poter creare, organizzare strutture anche perché per potersi presentare in questa circostruzione c'è la necessità di creare dei raccordi ancora prima che politici soprattutto di natura organizzativa ed economica tutto questo viene controbilanciato però da una concezione semipresidenziale e verticistica del nuovo modello europeo secondo il sistema dello spins and candidatum ossia cioè che si va direttamente ad indicare il nome del presidente della commissione nel momento in cui si va ad eleggere il proprio rappresentante in Parlamento modello semipresidenziale sostanzialmente alla francese ma che noi conosciamo bene perché pur avendo noi in Italia un sistema maggioritario la famosa logica per cui io sulla scheda elettorale indico il presidente del consiglio dei ministri che ci è stata menata dalla destra per circa una ventina d'anni rientra in questa logica, in una logica in cui poi nell'individuare prima il nome del presidente del consiglio dei ministri del presidente della commissione stai già ponendo le basi politicamente ex post per trovare un accordo di coalizione che sostanzialmente va a consolidare questo meccanismo va a consolidare il classico accordo che da sempre c'è all'interno del Parlamento e delle istituzioni europee tra socialdemocratici e partito popolare per andare ad individuare poi quelli che sono i soggetti che tra virgolette comandano, reggono la borsa cioè il presidente della commissione in giù chiudo su questo punto dicendo che evidentemente se partiranno dei gruppi di lavoro al nostro interno su questa questione io credo che questo è un tema su cui è un tema tecnico sì ma è un tema che ha delle connotazioni dei risvolti politici enormi e rispetto al quale io ritengo che se partono dei gruppi alcuni già ci sono ma se in questa fase è opportuno ragionare rispetto a questo obiettivo politico è forse anche opportuno provare a creare un gruppo di lavoro che nel momento in cui questa proposta diventerà legge perché va a modificare l'atto unico europeo delle elezioni è chiaro che ci deve trovare preparati soprattutto nella logica a cui ci siamo sempre detti il presidente ha sempre evidenziato per cui questo è un nuovo spazio di militanza ma è uno spazio di militanza che si proietta a livello politico europeo e la creazione di una circoscrizione politica europea in cui il GUE sia protagonista e come dire porte all'attenzione dell'opinione pubblica europea i propri programmi evidentemente gli uomini e le donne che incarnano questi programmi e questi dei mi sembra come dire un'operazione che deve essere affrontata studiata, analizzata per realizzarsi ovviamente in tempi anticipando diciamo così anche gli altri partiti possibilmente dal punto di vista dei tempi un'ultima riflessione e qui mi collego non più al compagno Gianni ma il compagno Musacchio rispetto alla questione della guerra e della pace sono molto d'accordo con quello che si è detto volevo provare a fare così una suggestione veramente rapidissima noi siamo abituati a sinistra a partire dall'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controverse internazionali perché ci piace tanto col ripudia senza se e senza ma e questo comporta se noi non stiamo in guerra perché nessuno ci ha attaccato l'equidistanza cioè non è che c'è bisogno tutto il resto è mistificazione demagogia propaganda io vorrei provare a fare uno sforzo come dire contro natura contro la nostra natura di sinistra che riguarda però l'Unione Europea perché qui ciò che conta è nella vicenda ucraina che è una classica vicenda vespaliana uno stato invade un altro stato ce l'avevano detto per 20-30 anni che avremmo assistito a guerre asimmetriche all'interno degli spazi globali tutta paccottiglia buttata dell'immondizia della letteratura scientifica della propaganda giornalistica siamo ritornati ad una logica di guerra tra stato e contro stato l'articolo undici prosegue e dicendo che noi cediamo la sovranità a quelle organizzazioni internazionali e sovranazionali che hanno come obiettivo quello di garantire la pace e la giustizia sociale che cosa voglio dire? Voglio dire che qui non è in questione non dovrebbe essere in questione il ripudio del nostro paese nei confronti della guerra qui è in questione il ruolo che le organizzazioni internazionali sono d'accordo con Luigi Ferraioli sono d'accordo con Alfonso Gianni ma l'ONU è lontano le organizzazioni sovranazionali svolgono in questa vicenda anche perché come ci dicono tutti è ritornata la guerra in Europa e dunque qual è la posizione dell'Europa? È una posizione che va in ordine sparso in Germania ci iniziano ad esserci dei tentennamenti il primo ministro il cancelliere frena sull'invio di armi poi la sera va dal suo amico Schroeder a chiedere che cosa ha contrattato con Putin per sapere quale dovrà essere la posizione del governo tedesco il giorno dopo ma il punto qual è? Il punto politico come dire la contro la controcondotta la spinta che emerge da questa situazione in cui siamo tutti in un ordine sparso in cui le organizzazioni sovranazionali e l'Unione Europea non sono in grado di garantire la pace e la giustizia sociale la dinamica che si verifica è che quegli stati che all'interno dell'Unione Europea non stavano con la Nato e chiudo fino all'altro giorno non stavano con la Nato e che anzi guardavano la Nato anche con una certa avversione o con un certo timore oggi incominciano a ragionare anche sul loro ingresso e questo per dire che cosa? per dire che un modello di Europa che non è nulla magari fosse un'Europa confederale già questo sarebbe un'ottima cosa un modello di Europa che non è politica in cui tutti vanno in ordine sparso e in cui tutti mandano le armi agli ucraini e noi siamo gli unici che mandiamo le armi agli ucraini mettendoci il segreto di Stato dopo che il Parlamento ha votato ha approvato questo indio delle armi i nostri stessi parlamentari non sanno che cazzo di armi ci abbiamo mandato a quelli e parliamo appunto di fatto di una situazione di cobelligeranza a nostra insaputa sostanzialmente ecco che secondo me è da rivedere lo schema di lettura che fino a pochi anni fa noi abbiamo in qualche modo dato delle vicende belliche quando erano lontane dal continente europeo perché è in mancanza di una posizione politica federale ma anche confederale che sia dell'Unione Europea su questi temi la reazione qual è? La reazione è l'aumento delle spese militari la reazione è un ruolo di protagonismo nuovo da parte della Nato considerato che ci hanno promesso che il prossimo presidente della Nato sarà italiano io non mi meraviglio che Letta abbia la posizione che abbia grazie a tutti grazie a tutti